Gabriele Maruotti alla corte di Gerbic, la Sirsef di Perugia ha piazzato un altro colpo fra gli schiacciatori dall'alto Tevere a Città di Castello, infatti arriva Christian Fromm, uno dei pezzi pregiati del mercato, lo schiacciatore tedesco classe 90 nelle ultime due stagioni a Città di Castello, arriva appunto per rinfoltire la batteria di schiacciatori a disposizione di Gerbic ed è il terzo acquisto dopo De Cecco per la regia, appunto Maruotti, sempre per la banda, il mercato del DS della Sirsef di Perugia, Bino Rizzuto non è comunque terminato chiaramente, nel Mirino ci sono ancora il serbo Lisinek che è un centrale che gioca in Germania, uno dei colpi ad effetto potrebbe essere l'intramontabile Alessandro Fei e poi piace Thomas Beretta del Monza, tra l'altro il DS Rizzuto, DS della Sirsef di Perugia che è anche fresco di vittoria al Gran Galà dello Sport italiano, con la cerimonia che si è svolta ad Agropoli, a Rizzuto è andato il premio come miglior direttore sportivo dell'anno. Chiudiamo con il Golf perché ha fatto tappa anche in Umbria il prestigioso BMW Golf.